Buongiorno, sono qui alla Singer per le promozioni magiche. Certo, vuol vedere... Oh, questo potente spira polvere elettronico scontato nel 30% e questa stiratrice che pagorate senza interessi. Ma l'afferta bomba. E l'automatica Magic 9 costa solo 459 mila lire e in più supervalutate e ne usate. E c'è anche questo asciugacapelli in regalo. Mi dia tutto. Visto che pacchia la Singer con le promozioni magiche.